Sony Cybershot HX300 è un modello bridge dotato di funzionalità avanzate e di specifiche tecniche degne di nota con una serie di funzionalità che rendono questo modello particolarmente accattivante. È provvista di un sensore d'immagine di tipo CMOS XMOR con una risoluzione effettiva di circa 20,4 megapixel, ottimo anche in condizioni di scarsa illuminazione. Monta inoltre un obiettivo Carzeis Vario Sonar T di alta qualità. Quanto a sensibilità i valori oscillano tra 80 e 12800 ISO. Sony Cybershot HX300 è provvista di un eccellente zoom ottico 50x e di uno zoom digitale in grado di arrivare fino a 200x alla massima risoluzione che permette di riprendere in maniera ottimale soggetti in lontananza. Nemmeno le oscillazioni saranno un problema grazie allo stabilizzatore ottico integrato. Caratteristiche importanti e che si completano ancora di più con il display LCD Triluminos da 3 pollici ed il mirino elettronico. Una fotocamera davvero facile da utilizzare grazie alla modalità automatica ma anche professionale grazie alla possibilità di regolare tutto manualmente mediante i comodi comandi posti sul corpo macchina. La modalità video è molto completa. La Sony Cybershot DSC-HX300 può registrare filmati video full HD e realizzare scatti continui ad una velocità fino a 10 fotogrammi al secondo. Sony Cybershot DSC-HX300 si dimostra una fotocamera affidabile ed accattivante per un ampio spettro di consumatori, principianti ed esperti.